Jacky Guizzanti! Romeo vuole conquistare il Luna Park! Dobbiamo impedirglielo! Super pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! Alla gatto mobile! Presto, alla sala del... Specchi? Ehi, dov'è il Luna Park? E dov'è Romeo? Ehi, guardate! Per tutti i baffi felini! Che strano! Portiamolo al quartier generale! Vediamo che altro può fare! No, potrebbe essere pericoloso! Dovremmo prima rifletterci su, Gekko! È solo uno specchio! Che mai potrà succedere? Forse non era una buona idea! Non ne avete idea, pigiapesti? Pigiariflessi pronti all'azione! Per conquistare la situazione! Super Gatto Velocità! Non puoi battermi, Gatto Boy! Super Pantera Velocità! Alida Super Gufo! Prendi questo! E questo! E questo! E questo! Alida Super Gufetta! Vieni fuori ovunque tu sia! Romeo! Lo sapevo! Super Giacomimetismo! Naturalmente il modo più facile per sconfiggere le pigiapesti è farle combattere contro se stesse! Quello di cui aveva bisogno il mio specchio malvagio era un po' del potere di Gekko! Gli darò una lezione! Forza da Super Gekko! No! Devo ascoltare Gatto Boy! Riflettere prima di agire! Ci sono! Cosa facciamo? Non lo so! Io sì! Quando ho toccato lo specchio il mio potere ha liberato i pigiapesti! E forse è così che li sconfiggeremo! Poveri Super Pigiamini! Arrendetevi! Noi non ci arrendiamo mai! Di nuovo tu! Forza da Super Gekko Ombra! No! Ben fatto Gekko! Ho riflettuto proprio come mi hai detto! Cosa facciamo con loro? Super Pigiamini! Sì? Ah! Questo attirerà la loro attenzione! Muahahahaha! Vediamo se i Super Pigiamini resistono a questo! Muahahahaha! Ehi! Che succede? Oh no! Non promette bene! È il momento degli eroi! È il momento degli eroi! Chi è fu? Gekko! 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 Super Udito Gatto! Presto Super Pigiamini! Di qua! sembra abbastanza inoffensiva attento gatto poi non sappiamo cosa sia si potrebbe essere pericoloso visto? che vi avevo detto? totalmente inoffensiva pensavo che fosse una specie di truppa è più una trappola Romeo che storia è questa? il mio metamorfo raggio finalmente vi metterà in trappola pigiapesti non la farai franca Romeo come faccio ad aiutare i miei amici se sono in trappola? oh no Gekko stai attento tornate qui ne resta solo uno oh no oh Gatto Boy qui Micetto sai Robot mi chiede sempre un gatto e finalmente il suo desiderio potrà avverarsi cercavi me Romeo super gatto velocità aspetta dai stai fermo ti senti un po' frastornato eh Romeo? ma che no sto bene oh mamma questo dovrebbe tenerti tranquillo per un po' questa la prendo io grazie mille grazie mille so cosa ci vuole abbraccio di gruppo è stato un gran brutto sogno finalmente i poteri di Gatto Boy sono miei nel sogno il cattivo cercava di rubarmi la super gatto velocità ricordi chi era? ricordi chi era? pensa Connor pensa il ninja della notte ha sempre voluto essere il più veloce più cerco di ricordare più mi sento confuso ehi è il mio dolcetto chi era quel ladro di gelati? non lo so ma dobbiamo fermarlo o i dolcetti non saranno l'unica cosa a essere rubata super pigiamini è il momento dell'eroe Gatto Boy Gatto 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 Super Gatto Velocità che succede? oh no il mio incubo è diventato realtà qualcuno ha rubato la tua super gatto velocità? credo di sì non potete lasciarlo scappare andiamo gufetta tocca a noi inseguiamo il ladro essere super veloci ha i suoi vantaggi dolcetti gratis beccato avrei dovuto sapere che eri tu Romeo nooo ehi ho lavorato sodo per rubare quel potere non è giusto noiosi super pigiamini volevo essere veloce per una volta bello riaverti con noi Gatto Boy aspetta super gatto velocità ecco molto meglio questo biscotto è davvero grande eh? super pigiamini fate festa sarà una bella giornata anche questa dolcetto uffa ci sta mettendo una vita non ho bisogno della super gatto velocità ma della super matematica velocità buona questa puoi farcela Connor ehi il potere ehi! cosa è stato? sembrava come se... cosa è successo Pijarobot? va tutto bene? cosa? i pigiacristalli del potere sono spariti! oh no! se perdiamo i cristalli potremo perdere i nostri poteri! dobbiamo recuperarli! ammai ha ragione e qualcuno potrebbe anche combinare qualche guaio con il potere di quei cristalli! andiamo super pigiamini! è il momento dell'eroe! chiacquo! let's go! da non credere! il ninja della notte ha preso tutti e tre i pigiacristalli del potere! guarda! non è andato lontano! è ancora in giardino! scommetto che se ci sbrighiamo lo acchiappiamo! è il momento della super gatto velocità! oh no! non di nuovo! wow! super ultra gatto velocità! muscoli da super ipergeco! occhi da super extra gufetta! ehi! riesco a vedere il ninja della notte e hai pigiacristalli del potere! sembra che la luce lunare stia potenziando i cristalli e i nostri poteri! ma troppo potere potrebbe distruggere i cristalli! dobbiamo recuperarli prima che sia troppo tardi! alto là! ninja della notte! cosa fai con i nostri pigiacristalli del potere? uffa! non posso fare nulla senza che voi pigia festi mi roviniate il divertimento! e grazie al potere dei cristalli adesso devi vedertela con i super pigiamini! piume da super gufetta! ha! sei veloce! ma non abbastanza gufetta! ah sì? che ne dici di questo? muscoli da super ipergeco! ha! sono più forti di voi super pigiamini! perfino delle vostre versioni potenziate! prendete questo! e questo! bel tentativo ninja della notte! super ultra gatto velocità! scommetto che possiamo lanciarli verso il quartier generale! cerco no! super pigiamini fate festa! sarà una bella giornata anche questa! vediamo! il libro dice che se io... wow! gli asteroidi sono incredibili! già! la scienza è meravigliosa! con quei poteri d'asteroide i super pigiamini non avrebbero nessuno scampo contro di me! gli asteroidi possono avere delle lune! wow! non sapevo che potessero fare questo! ora nessuno potrà fermarmi! vediamo se questo funziona! aspetta cosa? dove sono finiti? non promette bene! svelti i super pigiamini! è il momento di essere degli eroi! piatto! piatto! aulet! super pigiamini! grazie al cielo! qualcuno ha rubato i miei potenti asteroidi! sapevamo che lunetta tramava qualcosa! è andata da quella parte con i tuoi asteroidi! non ti preoccupare Newton! ti aiuteremo noi a recuperarli! super pigiamini pronti all'azione! di notte salviamo la situazione! vediamo che poteri hanno davvero questi asteroidi! non così in fretta lunetta! consegnaci quegli asteroidi! non se ne parla! non potete più fermarmi ora! piume da super gufetta! super gatto velocità! non ne ho abbastanza di voi super pigiamini! super giaco scudo! non è giusto! quello è il mio luna magneto! ridammelo asteroide antipasco! no! questa pietra si è presa a tutti i miei poteri! visto? ho provato a dirtelo lunetta! ti vendicherò di voi super pigiamini! e anche di te Newton! qui dice che devo solo... grazie per l'aiuto super pigiamini! super pigiamini fate festa! sarà una bella giornata anche questa!